Ciao amici di Taliato Games, oggi sto pubblicando video a rotta di collo ma non è colpa mia, certi giorni non c'è da pubblicare nulla o poco, oggi il delirio di Matti. Allora abbiamo parlato dell'evento speciale per la Roma, per la Conference League di Football, abbiamo parlato di Football Championship Pro, ma adesso torniamo a parlare dopo tanto tempo di UFL perché Eugene Nashilov, il zio di Strikers, a sorpresa ha pubblicato un minuto di videogameplay. Ora Eugene ha specificato che si tratta di una versione non finalizzata, non completa, ancora non definitiva, però ci possiamo fare una prima, primissima idea su quello che sarà sostanzialmente UFL. Allora io lascio parlare le immagini e ditemi voi poi, e ne parliamo dopo. Non c'è audio, ecco qui vi fa vedere che stanno ancora programmando il gioco ovviamente, qui c'è una tastiera, il gioco è programmato su PC ma per il momento non è ancora ufficiale che il gioco uscirà su PC, ma qui possiamo vedere il gioco per pochi secondi, eccolo qui, bello questo schermo widescreen, tra l'altro gigantesco davvero, e qui il gioco parte. Sento anche i movimenti del pad. Ho preso il difensore. Finito. Ragazzi, cosa dirvi? Ribadisco, mi auguro vivamente che la versione definitiva sia poi migliore rispetto a quella che si vede qui, ma Eugene lo ha specificato, si tratta di una versione molto molto acerba. Da quello che si vede qui, il gioco mi sembra molto 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 più simile a FIFA che ai football, sia nella fisica, sia nelle interazioni dei movimenti e tutto quanto. Mi sembra più un FIFA oriented che un PES o ai football oriented, così, a grandi linee. Poi dopo ovviamente il gioco bisognerà provarlo e bisognerà vedere. Io vi ripeto, sono curioso del vostro feedback, ditemi pure, ma stiamo comunque parlando di una versione non definitiva. Il video invece è ufficiale, se cercate, anzi ve lo faccio subito vedere dov'è. Eccolo qui, Eugene Nashilov. Ok ragazzi, il team potrebbe uccidermi per postare questo materiale. Non è finale, non è ottimizzato, ma si vive una sola volta, dopo tanto lavoro, speriamo che questo vi piaccia, la build corrente che noi abbiamo. Insomma, lo ribadisce Eugene Nashilov, non è una versione definitiva. Però ci ha mostrato queste cose. Cosa ne pensate di questo video? Fatemelo sapere nei commenti e vi aspetto con un altro video questa sera alle 20, sempre che non ci sia altro da qui alle 20, con il debutto di Tonali nel Dreamlink di football. Vi assicuro sarà una bellissima partita, ve lo garantisco. Ciao e al prossimo video. Ciao e al prossimo video.